di chi per esempio fa direzione dei lavori per la manutenzione delle briglie e pensava che il suo ruolo fosse unico e sostituibile e come dire sufficiente per dare sicurezza ai cittadini e invece non è così ecco, pian piano anche per me entrare in questo mondo significa apprezzare sempre di più tutti gli altri aspetti quelli di cui all'interno del tipo di preparazione di competenze di sviluppato non erano chiari non erano neanche presenti proprio bene, ci sono domande per l'intervento di Rocco? sì, io ne avrei una cioè, anche su quello che deve parlare dopo ma anche una domanda per... ti stavo per introdurre mi rubo dei minuti cioè, una è tu hai presentato degli scenari futuri io ho detto, si va in questo quadrante in cui ci sono delle opportunità positive delle opportunità negative e così via ma se invece il futuro fosse un po' frattale chiamiamolo così in cui nel senso che per esempio in luoghi anche vicini tutte queste quattro possibilità si mescolano in modo diverso oppure ci sono la società magari quando in una città come Trento in cui ci sono tante relativamente tanti abitanti si stratifica secondo elementi che sono contraddittori tra di loro allora due risposte nel senso l'istituto di scenari in realtà inizia quando finisce il loro disegno perché si utilizzano negli anni dovrebbero essere aggiornati innanzitutto monitorati di cui segna posto stiamo andando verso un tipo di scenario verso dell'altro e quindi in un esitio completo e rigoroso andrebbe aggiornato ogni due o tre anni sono ancora validi quei quadranti e in cui si rivaluta questo è un tipo di approccio che ci risponde a riguardo alla frattalità si chiama scenari strategici perché sono specifici per chi li fa ovvero non è la pretesa di prevedere immaginare tutto il possibile da esterno ma è chi è dentro è attore di questo sistema e dunque in realtà gli indicatori sono rilevanti per loro e dunque per il sindaco di Bocenago sono rilevanti alcuni fattori che a borgo magari non sono così rilevanti quindi questo permette di essere di avere delle approssimazioni per essere più utile è sempre un trade off tra qual è la migliore predizione a qual è la cosa più utile più funzionale a gestire le strategie e a livello di frattalità il seguire eventuali biforcazioni fa parte dell'esercizio nel senso se fra tre anni lo aggiorniamo e scopriamo che abbiamo due opzioni una diversa diramazione ecco si lì si va a approfondire su quali sono i fattori di cambiamento dunque ok faccio un riassunto anziché è come dire più che vedere i punti dove arriva il nostro cono è vedere quali sono le cause di quella biforcazione e quelli si seguono altra domanda io prego una cosa allora tu per ogni cioè voi per ogni comunità avete individuato i fattori diciamo principali che erano 5-6 però voi avete fatto 4 scenari diciamo incrociandone sempre 2 vuol dire che per ogni area di studio sono individuati i due principali i due servono per disegnare il quadrante con 4 scenari poi ciascuna narrazione in realtà recupera tutte le variabili che abbiamo definito determinate tipo nello scenario 1 c'era dove il clima per esempio era determinato come si sa ad esempio a Borgo il clima sta andando in questa direzione non è rilevante come asse ma lo recupero nella descrizione dello scenario 1 dunque sarà uguale ripetuto nei 4 scenari quando una variabile è determinata si ripete non è che si perde il ritorno nella descrizione infatti c'era potete scaricare tutti i materiali in materiale report vedete nella narrazione degli scenari questa narrazione è creata su gli assi di incertezza ma anche recuperando tutte le altre variabili del processo dunque ritorno non si perdono dunque in realtà è una combinazione qualitativa dico qualitativa perché ci sono altri approcci alla postazione di scenari questo è il metodo che è stato usato a livello strategico insomma di multinazionali poi ci sono altri approcci più quantitativi che vanno sui fattori sulle combinazioni di tutti i scenari dunque vai su 16 32 eccetera eccetera approccio combinatorio delle variabili però fatto con diciamo non tecnici questo è un approccio più dialogo più produttivo scusate va bene adesso mi fa piacere salutare le persone che sono arrivate solo adesso e vorremmo invitarle anche a presentarsi così come abbiamo fatto prima con gli altri giusto per dire chi siamo perché siamo qui e proprio nello spirito anche di di rappresentare poi settori diversi segmenti diversi del sapere come abbiamo visto adesso nella presentazione di Rocco non c'è solo l'ingegneria non c'è solo la fisica non c'è solo la sociologia ci siamo tutti quindi volevo cominciare da te grazie io sono Catti Pellizzari sindaco di Valdaone benissimo benvenuta poi adesso non mi ricordo più forse tu sono Vigasco di Giovanni sono Gialago sì mi permetto ok grazie io sono Marco Pedrizi sono un libro professionista forestale interessato in questo grazie della Dio Matteo custode forestale della magnifica comunità di Fiemme proprietaria del patrimonio boschivo nella mare di Fiemme grazie Luca della Giacoma custode forestale ok grazie e Alessia Gorbaro e tirocinante presso la magnifica comunità benissimo poi magari durante la pausa adesso non chiedo agli altri di presentarsi perché sono poi il processo non a fine bene allora possiamo procedere adesso abbiamo due interventi tecnici fisico-ingegneristici quelli dei due organizzatori di questo incontro che sono appunto i professori Riccardo Livone e Giorgio Rosatti e volevo ricordare anche prima di cedere la parola a Riccardo che queste due giornate che ho descritto saranno poi ripetute anche per altri due anni quindi questo è previsto dal nostro impegno in franca e poi speriamo cambiando delle cose anche cambiando certamente e poi appunto sperando di poter proseguire questo tipo di attività il che significherà appunto che ci sarà interesse verso questo tipo di approccio alla tematica Riccardo non so se si può dire se tu accetti interventi anche durante sì sì o ti chiamiamo solo la fine io sono interattivo interattivo ok giusto perché lo sappiate interattivo